Ciao ragazzi e bentornati su Final Fantasy XVI Sono alla mia seconda sessione da quando ho il gioco Vero e proprio E in camera mia fa 28 gradi ogni volta che ci entro la sera E se vedete che sono sudato, sono effettivamente sudato Non è un problema di luminosità o di chissà che Dannazione, fa un caldo boia Ho il condizionatore acceso ma potrebbe non bastare L'ho messo a una temperatura bassissima Vediamo se riusciamo ad acclimatarci Comunque stiamo vedendo i mille tomi Perché sono tornato qui? Perché ci sono alcune cose che voglio farvi notare Che io mi sono letto tutto chiaramente dopo la fine della sessione scorsa E ho notato qualche cosa interessante A dire il vero un paio di cose interessanti Di cui una è la questione di Torgal La questione di Torgal l'ho dibattuta anche con i miei compagni di Mogu Talk Tutti siamo rimasti stupiti Della scarsa emozione provata Da Clive quando l'ha rivisto E quello che viene scritto qua È che dopo i 13 eventi di Porta Fenice Clive credeva di aver perso Torgal Invece l'avevo adottato Sid Quindi non lo vedeva da 13 anni Sid l'ha tenuto con sé per 13 anni Senza dargli un nome E poi noi l'abbiamo rincontrato L'abbiamo riconosciuto Però non c'è stato quel Erano inseparabili Eppure È come se mancasse la scena del ricongiungimento Tra il cane e Clive Quindi me Questa cosa qua A mio avviso Per come vedo io le cose È un buco di trama È assolutamente una reazione Non realistica del personaggio Andiamo avanti Il resto non sono critico Ovviamente Adesso non mi ricordo neanche più Dove l'ho letto Però comunque Viene detto che l'imperatore Si chiama Silvestre Lesage Silvestre è un nome Che non mi dice niente Ma Lesage sì È il cognome di Dion Quindi vuol dire che l'imperatore È quantomeno parente di Dion Se non addirittura suo padre Don'occhiata Se mi viene in mente qualcos'altro C'è una nota Per quello che riguarda Dal Parlamento Della Repubblica Di Dalmechia Sul fatto che Erano Titubanti Nella fidare a Titan La difesa Della Diciamo Della Repubblica Di nuovo Perché Loro in questa maniera Si metterebbero Si porrebbero In una situazione Di debito Nei suoi confronti E quindi Vogliono cercare Di evitare Di dovergli troppo C'è questo meccanismo Lo viene ripetuto Diverse volte Andando a cercare Vari momenti Anche la consultazione Qui O la battaglia Insomma Ripetono questa cosa Del Indebitarsi Con lui Ancora più di quanto Lo siano già Per il resto Non mi pare Che ci sia Altro di interessante Si Si faceva Riferimento Nelle terre Settentrionali Non mi ricordo Dov'è Nelle terre Settentrionali Boh Forse qui Non è segnato Comunque Si faceva Riferimento A un altro Cristallo madre Che ormai Ha perso Il suo potere Che si chiama Occhio del drago Di cui Non sapevo nulla Non se ne sapeva nulla E probabilmente Non se ne saprà più nulla Perché Ha perso Il suo potere Quindi Le regioni Settentrionali Hanno perso La loro indipendenza A favore Ai tempi Di Elwin E quindi Di Rosaria E una principessa Di queste terre Di questi regni Settentrionali È proprio Jill Sapevamo che era principessa Direi che la stanno trattando bene L'hanno trattata bene Ora ovviamente Ne hanno perso il controllo 13 anni fa Però Concettualmente Non la trattavano Certo come una prigioniera Ecco Quindi la trattavano come Un ospite Anche di Alto rango Quindi la consideravano Al pari di Clive Concettualmente Molto bene Ho notato anche Un'altra cosa interessante Qui nel bestiario Riguardo agli Stolas Che sarebbero Dei gufi In grado di Magazzinare I pensieri Di chi Li ha addestrati E trasferirli Direttamente A chi riceverà Il gufo Figo Non sono Dei messaggeri Nel senso che Hanno proprio Fisicamente Il messaggio Ma Portano proprio Le parole I pensieri Del loro Padrone Molto bene Riprendiamo L'avventura Ho deciso di Non intraprendere Le quest secondarie Per ora Di farle In un video a parte Inoltre ricordate Che Il playthrough Non commentato Quello che sto giocando Lo ritroverete Sul mio secondo canale Trovate il link In descrizione In maniera da Poter avere Eventualmente Se volete Una run Senza la mia voce Sotto A commentare E magari con I tagli dovuti In maniera da non Far rimanere Per esempio Clive ferme In questo punto Per troppo tempo Posso accarezzare Torgal Mi dicevano di sì Ma non lo posso Accarezzare Non lo posso Accarezzare Va bene Lo accarezzerò Più in là Dobbiamo andare A gran bosco Penso che la location Comparirà Dal nulla Uscendo di qua Che bello Il ciocobo Qua non c'era prima Prima era nell'altra posizione Mi pare Belli ciocobo Ah ecco E vivo Ambrosia Però non so come Ne reentreremo In possesso Perché E' tredici anni Che non la vediamo O lo vediamo Però ho visto Nella sua nota di lore Che ne parlavano Come un animale Ancora in vita Quindi Infatti Tra l'altro In tutte le varie scene In cui vediamo Clive Cavalcare un ciocobo Cavalca Ambrosia Quindi un ciocobo Bianco grigio Andiamo Ok Ecco la nuova location Vedete che sono segnate Queste secondarie C'è un simbolino Che mi ricorda Che qua Ce n'è ancora Non c'è altro E di nuovo Cosa che un pochino Mi fa storcere il naso Il viaggio Non lo viviamo Nel senso che C'è uno spostamento Invisibile Noi ci troveremo Direttamente a Gran Bosco Così profondo e vasto È Gran Bosco Che funge Da barriera difensiva Tra la fascia cristallina E il sacro impero Mentre i suoi cittadini Sconsigliano Ai viandanti Più temerari Di esplorare La notte eterna Di questa foresta Quindi vuol dire Che è molto fitta Andiamo Io so di quale Location si tratta Perché ho visto Questa 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 zona In moltissimi Trailer Anche nel primo Mi pare Si vedesse Una scena Nella foresta Ci sono un sacco Di insetti Fastidio Di odio Sangue mosche Sangue mosche Si chiamano Zanzare Dovevamo prendere La via del cristallo Hai dimenticato Che siamo Fuori legge Vuoi alle calcagne A tutti i cacciatori Di taglie Da qui Alla sacra capitale Inoltre Che male c'è A prendere Una scorciatoia Nella natura Va via Le terre morte Avanzano di giorno In giorno È un miracolo Che esista ancora Un luogo del genere Incluse Le sangui mosche Presto torneremo In territorio imperiale Stai bene? Ma è stato meglio Non l'avrei detto E Torgal ci segue È davvero un ottimo segugio Abile nella caccia E coraggioso È bello rivederti Torgal E vedi È già più emozionante Questo momento Rispetto al loro primo incontro È meglio di no Nuovo capitolo Un fuoco che cova Ok ci sono le informazioni Su Torgal Ok ha Tre Tipi di attacchi Ma li vedremo Posso anche Sì Farò così Così non mi sto a sbattere Ti ho detto che ci saranno Bestie letali? Ci saranno bestie letali? Ci saranno bestie letali Ma un assassino addestrato Può gestirlo? Mi rassicuri Grazie Non c'è di che Per questo È la scorciatoia Ok È vero Ci sta che noi usiamo Una scorciatoia Proprio perché siamo ricercati È plausibile Sono andato a vedere Il Le note di lore Istantanee L'unica cosa nuova È il gran bosco Ovviamente Perché il resto L'ho già guardato Mentre ero Al Al rifugio Una vasta foresta Nella parte sud occidentale Di Sandbrek Qui la fauna prospera Ma negli ultimi anni Il delicato equilibrio Del suo ecosistema È stato sconvolto Dall'espansione Della piaga Che ha causato La migrazione Di molti animali È divenuto così pericoloso Che ormai Ben pochi viandanti Osano avventurarsi Al suo interno Ci sono bestie letali Ci sono bestie letali Bravo cagnone Adesso posso Lo posso accarezzare La mano compenetra Il muso Di Torgal Ma vabbè Abbiamo altri Altri metodi Gli diamo i biscottini Vabbè L'abbiamo già visto Dove li tenevi? Vabbè Andiamo Al posto è figo Oggettivamente bello Curatissimo Sfondi vivi che si muovono E ci sono delle rovine là dietro E c'è una musica tutta sua Forse è sin troppo ritmata E' un piacere per gli occhi, è sto posto Sombor, mamma mia che bello Oh, si combatte, con cosa? Dei worgen, lupi Allora, io come vi dicevo ho messo l'anello per far agire Thorgal in maniera automatica Altri nemici in avvicinamento Quindi ogni tanto vedrete che verranno impartiti degli ordini In maniera automatica Ok, in tutto questo abbiamo preso delle pelli insanguinate Ma io non mi ricordo da dove sono venuto Penso di qua I lupi sono qua per terra Sono delle specie di iene Sì, arrivo, Sid Non scassare i cosiddetti Ecco, ero rimasto entusiasta di questa super quercia gigante Mamma mia, veramente enorme Qui c'è un altro cadavere Anche questi sono fatti abbastanza bene Hanno delle cose arancioni che gli escono dalla coda Come se fossero Dei, delle specie di corna Forse di cartilagine Comunque, andiamo Qui dobbiamo passare sotto C'è qualcosa di grosso Lui è il simpatico Fafnir L'abbiamo visto In un trailer E anche nei B-roll Dell'evento a Londra E a Milano In nome di Grigor Che cosa ci fa così a sud? Ecco E un altro di quelle creature che si è spostata Non ci sono più lupi a nord È stato tra i primi luoghi di Ciclonia a cedere alla piaga Poveraccio Poveraccio Mi inviterei a prendere il tè se non te messi per il cane Povero Torgal Mi sa che adesso devi fare gli straordinari Riprendiamo Vediamo se abbiamo una mappa Non abbiamo una mappa, ok Cercheremo di stargli alla larga Ma in realtà noi sappiamo che dovremo affrontarlo Uh, nemici Questa volta sono delle Dei vegetali Wow Mordi Un aumento di livello Istantaneo Non abbiamo nulla da Dover fare noi Cenere magica Abbiamo tirato su degli altri materiali Materiali che probabilmente sono il drop Più o meno probabile Di queste creature Che sono delle specie di Arbusti viventi Dei fiori che si alzano Ci sono delle creature simili In Final Fantasy XIV Ma Ne ho visti In tanti altri Final Fantasy Non è una novità Per la saga Dei vegetali Aggressivi Che tra l'altro Mi pare che da qualche parte Si chiamassero proprio Rosalith O qualcosa del genere Un po' di virrite Ci potrebbe tornare bene Per upgradare La nostra Claymore Dopo di te Ah, ti ringrazio La foresta è bella Però non ha pivi Le rovine Uh, che bello Sono ovunque Altre rovine Che spettacolo Se fosse un open world Sarei entusiasta Secondo alcuni Un tempo oscuravano Le stelle Non gli restava Che scavare Sottoterra C'è qualcosa Da imparare In questo Ma non ora Dai Posizionando Quelle due spade Alla cintura Seed può Appoggiare Il braccio Ed è una posizione Che lui ha Spessissimo Come se fosse Legato Alla In realtà ce l'ha Appoggiato lì Se si facesse male O se avesse male A quel braccio Non dovrebbe quasi mai Sforzarlo Questo lo dico Perché ho visto Una scena in cui Lui aveva Il braccio dolorante A causa Degli effetti Dell'uso Dei suoi poteri Si passa da qui Allora La luce cambia Se io guardo Di là Diventa più scuro di qua Comunque Yeah Questo è un ingrediente È un materiale Zanne affilate Non è la solita pozione Allora Sicuramente Gli sfondi Sono fatti meglio E sono più realistici Rispetto a quelli Del set remake Che è un po' Un termine di paragone Obbligatorio Per questo tipo di gioco È ovvio Quando avevo giocato la demo Mi ero lamentato Della scarsa espressività Dei personaggi Del sedici Rispetto a quelli Del set remake Ma mi è stato fatto notare Che questo gioco È molto più potente Per quello che riguarda Tutto il resto Dell'ambiente Tutto intorno ai personaggi Mentre il remake Era molto più Incentrato Sui suoi protagonisti Quindi È una scelta Di focus Da parte del team Di sviluppo Allora Qua ci sono Degli alberi Battuti Questa qua È una tipica zona Dove dovremo Combattere Non c'è la musica Ma perché Non c'è la musica Torga rimane lassù E si guarda intorno E vola Con le due zampe davanti Andiamo Ok Questo è grosso Evis Uccidi il nemico Allora Questo è un mini boss Mamma mia Mi spara le palle di fuoco Questo giocandolo Senza la schifata automatica Mi avrebbe già Più che fregato Dovrei imparare Dovrei Provare Un bravo cagnolone Ho preso un trofeo Dovete scusare Ma i trofei non sono visibili In questa run Ma ve li dico Quando li prendo Comunque non so Qual era il motivo Probabilmente perché Ho fatto un tot Di attacchi Col bravo cagnone Dicevo Dovrei imparare A giocare meglio Dovrei imparare A sfruttare meglio Le mie combo Ma Non è questo Il mio scopo In questa run Che è assolutamente Story driven Danni da vacillamento Pochissimi perché Il vacillamento è arrivato tardi Le sue spoglie Ci danno qualcosa? Artiglio di viverna E zanna affilata Me ne sto Ci deve essere un nido Occhi aperti Mi piace che rimangono i mostri qua Li possiamo ancora osservare Insanguinati Ma sono qui Come vi dicevo Nello scorso episodio Levis è un tipo di draghetto Vedete Sono fatti così Anche in altri giochi Come per esempio Final Fantasy XIV Ed era il nome Di uno dei nostri compagni Tra i bastardi Questo è un muretto Questo è un muro È un muro Mi sembra un muro Artificiale Ma forse mi sbaglio Forse è una scarpata Spazio di inventario Insufficiente E usa la pozione Automaticamente A quanto pare Di qui non si passa Ammetto che non me l'aspettavo Ah Lui è là Questa è una deviazione Cioè Qua si può girare Intorno all'albero Beh Possiamo andare di qui Qua c'è qualcosa Che c'è bello Ok Torgal mi dice Con l'istinto animale Dove andare Ok Questa è un'altra Delle meccaniche Apprezzabili Per non farti perdere tempo Ora Di qua non si può andare E il cane dice Guarda che di qua Si può andare E questa cosa La posso attivare Con l'R3 Non so quale sia Penso Si ho capito Qual è E' questo Ok Ma una volta qua Che fa Ah di qui Almeno tu conosci i boschi Ah ma era proprio Un posto molto stretto Ci sta che non l'abbiamo visto Che è bello Però E' bello Non c'è niente da dire L'effetto della luce È stupenda E' fantastico Nulla da dire Su questo Ma è appunto Un corridoio Là ci sono dei nemici Eh iniziamo Dai Non ho ancora visto I poteri I poteri Di Seed Non li ho ancora mica visti Ci sono sia lupi Che piante Sta giù Questa era una finisher Fa figo eh Belli questi dialoghetti Durante il fight Sono carini Approfondiscono i personaggi Più o meno Ci fanno capire Che Seed E' un mattacchione Fa spesso Battute ironiche Forse da un po' troppi comandi Ecco Ne ha dati Due di fila Con la stessa frase Ecco le rovine Sono lì Vedete E passiamo attraverso Un arco Ricordiamo che Questo materiale Con cui sono fatte Queste Strutture Dice la lore Che sono E' un materiale Più Duro Dell'acciaio Fa quasi Una specie Di Di zona Sferica Una parete Curva Tutto intorno Vedrete poi Come verrà Utilizzata Dal gameplay Di questo gioco Andiamo Mamma mia Era su un albero Ci siamo Fafnir Creatura mitologica Nordica Mi pare Tipico drago Di diversi Final Fantasy Ma anche Tanti altri Giochi Simili Qua non me li Non me li fa Parare Come Prima mi diceva Quando parare Qua invece ho dovuto Quando schivare Più che altro Ho dovuto cavarmela Schivata precisa L'ho fatta per conto mio E' sta testata Sì Devo stare molto Più attento Intanto Continuiamo A colpirti Lo sto aspettando Sto aspettando Le sue mosse Ok È diventata una sfera Ha provato a colpirmi Rimbalzandomi addosso Sto continuando A vigliaccarmela Adesso gli vado Più vicino Mi ha preso Altro che E ci useremo Una pozione È bello Esteticamente Questo combattimento È favoloso Uh La fa doppia Pure con la coda Pure con la coda C'è qualcosa Di Final Fantasy 14 in questa musica Ma non Non rammento cosa Uh Vacillamento Damose Dai 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 5600 Perché ho usato una pozione Di quelle Che mi aumentano la potenza In più Non sono da solo Uh Che bello Questo era Il sistema di gameplay Che vi dicevo E avevo visto Che faceva questa Questa super rotazione Che alla fine Mi ha preso Questa me l'ha fatta schivare La fa doppia La fa doppia Ok Schivata Qualcosa schivo Ma qualcosa no Dai dai che ha vacillato Per un attimo Contraattacco preciso La prima volta Che riesco a farlo Stavolta Stavolta mi ha preso Ritorna A ruotare In realtà Mi colpisce Solo qua Adesso Adesso Inizia Ecco Questo E mi ha preso Di nuovo Devo farle meglio Separate Perché io clicco Però non abbastanza Nel momento giusto Vacillamento Andata Ciao Fafnir Fafnir del nord Ucciso Bellissimo Sto scontro Bellissimo A prescindere dal fatto Che fosse facile Che io fossi scarso E bla 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 Scaglia con torta E' un oggetto nuovo E' un oggetto blu Quindi potrebbe avere La stessa rarità Delle lacrime di ghiaccio Che abbiamo preso L'altra volta 40 win rite Che penso che sia Un materiale molto comune Ah che faticona Oh è ancora vivo Ma dai Ma dai Eccolo là E noi diciamo Ah Ah E' così eh Altra scena che Avevano già fatto vedere Ah Vedi che anche tu Vedi che anche tu Sei un dominante Orcocan Quei fulmini Che hai visto Quando abbiamo fatto fuori I guerrieri del nord Delle terre Delle isole Non ti ha fatto venire in mente Sì ma se fumi Guarda che forse è il fumo Comunque Ramù Ha infestato Sid Vuoi aiutare dominanti E portatori Ma tu che ci guadagni Che cosa ci guadagno Un'ottima domanda Ci guadagniamo tutti Quello che vogliamo E meritiamo A parte il nostro talento Dominanti e portatori Sono uguali A chiunque altro Usare la magia O evocare possenti bestie Dovrebbe garantirci rispetto Ma ci ha resi degli emarginati Veniamo usati e scartati Come strumenti Siamo umani Perché dobbiamo morire In questo modo Un rivoluzionario Dai Capisco Quindi stai dicendo Che vuoi scatenare una guerra Ah mi lusinghi ragazzo Ma ormai non sono più Una testa calda No Voglio soltanto offrire Una scelta Un luogo in cui morire Alle nostre condizioni Per ora Seed non ha lati oscuri Dalla personalità Sembra proprio una persona Con sani principi Ironico Affabile Gentile Generoso Mi stupisce SING Ho sentito un suono Ma in realtà è perché È svanito il cooldown Di uno dei miei attacchi Posso saltare su Fafnir? No Comunque L'abbiamo fatto fuori Abbiamo visto dove L'entrava Facciamocelo dire Da Da Torgal Bello è sto posto Andiamo Dicevi qua Seed dominante Di Ramu Ne abbiamo già conosciuti Quattro Quindi Oltre Joshua Ugo Kubka Di Titan E Jill Di Shiva Qua ci dovrebbe essere un lago Secondo i miei Le mie teorie E invece non lo vedo Il lago Neanche in lontananza Avevo teorizzato Che ci fosse Posso vedere la mappa? Vi faccio vedere Se mi ricordo come si fa Invece no Così sparo le mine Mappa Allora io pensavo Ok c'è il cursore Di andare da qui Verso circa qua Più o meno Questa zona Dove potrebbe esserci Lost wing Nel tratto Avrebbe dovuto esserci Un bosco di conifere Con tanto di lago E io avevo Localizzato più o meno Qui quella zona Ma laghi Qui non ce n'è Effettivamente Quindi potrei Clamorosamente Sbagliarmi E dovremmo Dovremmo avere a che fare Anche con Dei minotauri E roba del genere Comunque Continuiamo Io stavo guardando Di qua il paesaggio Ma dovevo muovermi In questa direzione C'è un nemico Un calabrone Ma io calabrone Lo prendo a palle di fuoco Cavolo se sono Resistenti Sti calabroni Dai Andiamo agli incontri Questo ormai Lo ammazziamo Dai Ha droppato Una zanna affilata Quel calabrone Molto varia Diciamo L'ecosistema Della foresta Molti mostri diversi Quindi Lupi Piante Calabroni Epis Un Fafnir Di passaggio E qua Forse c'è un bivio Vuoi dire Attacchiamo Questi Adesso Sid Sta usando I fulmini Finalmente Attacco Ad area Bello Bello Allora È vero È solo un tasto Ma mio dio Quanto è appagante Mio dio Quanto è appagante C'è un fiume Risalendo il fiume Allora Però Diamo un'occhiata qui Noi venivamo da qua Andando di qui Andando di qui È chiuso Poi Andando di qua Mostri Questa è la prima zona facoltativa del gioco Non ve la nego È la soddisfazione Assolutamente Però Effettivamente Sto premendo sempre il quadrato Mamma mia Devo imparare Però Non è questo il giorno Oggi premo solo quadrato E mi guardo intorno Provo a andare di qua E di qua si sale Torgal Ma se io volessi Ah lui mi dice che devo andare di qua Proviamo ad andare nell'altra direzione Perché di qui non ho esplorato bene 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 Perché qua Qua non c'è niente Qua c'è un oggetto Ecco Questo potevo perderlo Se no Anche di qui E anche di qua Cominciamo ad avere Delle deviazioni Aumento il livello Ottimo Devo far niente Devo solo continuare a combattere Andando su di qua Forse ci rincontriamo Con l'altra strada Di lì non scendo Andiamo di qui Di qua si vede di sotto Ma di qua si torna indietro Un worgen Ok lupi E una pozione Ok E direi che ci siamo Ok questo qua è il posto che abbiamo visitato prima Quindi Torgal dimmi dove devo andare Di qua E qua non ci sono ancora passato Sì ok ho capito Abbiamo fatto il giro di lì Continuiamo di qua Nemici Eccoci Questa è la piana Dove avevamo visto I lupi E c'è anche un Evis Concentriamoci su di lui Che è più grosso Eh beh La questione Che era stata sollevata Dei famosi Ehm Com'è che li chiamavano I Pungible No Che dicevano che i mostri Ehm Assorbivano Erano delle spugne Che assorbivano i colpi Io sinceramente Non li ho visti Cioè Forse sarò abituato Dal 14 Che i nemici scendono Con quella velocità lì Se non molto di meno Però Non mi paiono Ehm Durare Così tanto La boss fight Secondo me è durata giusta Questi Questi sono durati giusti Non mi aspettavo Durassero Né di meno Né di più Quindi Per ora Non percepisco Quella Quella sensazione Di inutilità Dei nostri colpi Lo devo capire Da che mondo è mondo Si aprono le casse a calci E lo fanno tantissimi giochi Allora Noi siamo venuti di lì Qua c'è un altro oggetto Di lì si andrebbe Di là è tutto chiuso Si va di qua Aspetta Uno scout reale È molto lontano da casa Seguiamolo Anche questi Visti nel trailer Durante lo set of play Io li avevo etichettati Come assassini Ma non sapevo Di che nazione O A chi si affidassero Quella è Benedicta Qui c'è Benedicta E Sono da quella parte Tutti quanti Lo giuro su Grigor Eccellente Procediamo Io Non capisco Non mi sono dimostrato leale È vero che il mio signore Stima la lealtà Più di qualsiasi cosa Ma non hai esitato Un istante A tradire i tuoi connazionali Per denaro Ok Benedicta Ha aperto Il povero tizio Ah lei Ha spento il fuoco Abbastanza velocemente Quella donna È uno decisamente Più grosso degli altri Comunque Benedicta Arman Comandante Dei servizi segreti Di Walud Se riuscissimo A catturarla Voi Gettate le armi a terra E vabbè Ma che sortunella Allora Questi sono di Valoed Quindi sono reali Assassini reali O Spie Ranger reali Sono decisamente Fuori posto Perché Valoed È nell'altro Continente Combattimento Ok Inizia il fight Per la cronaca Grigor È La divinità Dell'impero È quella specie di Di donna Che si vede Nello standardo Di Sunbreak Per capirci Abbiamo visto Anche alcune statue Ed è la religione Ufficiale Dell'impero Che è molto Legato alla religione Perché è un impero Teocratico Questo è più grosso Corvo di mezzanotte È grossino Questo Ci vorranno Due vacillamenti Ma al prossimo Mi uso la pozione Così andiamo sul sicuro Oh oh Si è arrabbiato Scontri cinematici Sì sì Ma l'avevi già spiegata Sta cosa Bella sta scena Fucucu Anche lui è benedetto Dal vento Come noi siamo benedetti Dalla fenicia Come facciamo A tenere la lama Con la mano Comunque È serio Questo assassino Bellissimo Che si teleporta Avanti e indietro Ci sbuca di lato Adesso ho usato Una pozione Per farlo fuori prima Mi manca poco Ma ancora un pochino Abbiamo tolto la spada Stavolta Stavolta l'abbiamo beccato È forte questo nemico Sa combattere molto bene Triplo Scontro cinematico Buonanotte Buonanotte Il simbolo dell'esperienza Uguale a quello del 14 Meteorite Emblema della possanza Aumenta di 7 l'attacco Direi che questo È ottimo E ci lascia Ci hanno scambiati Per imperiali Beh insomma Ti sei visto? Eh sì Abbiamo l'armatura Anche se combatti Come un vero scudo Di rosaria Uno scudo Benedetto Dalla fenice A tal proposito Mi domandavo L'altro icon del fuoco Conferisce benedizioni? Non mi credi E così il creatore Plasmò dagli elementi Otto e icon Come custodi Dell'unica legge Non che io riponga Molta fiducia Nella sacra dottrina Ma quel punto È chiaro Il fuoco dovrebbe avere Un solo guardiano Come tutti gli altri Quando muore un guardiano Ne nasce un altro Ma spesso ci vogliono anni Solo che Non mi sembri Un bugiardo Che ci porta All'unica persona Che possa fare chiarezza Su questa storia Ed è Adala perduta E chi è? Ci saranno anche I waludiani Immagino Muoviamoci Finché c'è luce E se per caso Qualcuno trovasse i corpi Beh Resteranno sicuramente Delusi Beh non possiamo neanche Perdere tempo A seppellirli Allora Rigioca Fasi A modalità Archie Ok Possiamo rigiocare Questa parte qua Perché è finita De duco Abbiamo un teleport Abbiamo un teleport Qua Possiamo Colli di Ora Bell Possiamo anche Tornare indietro Possiamo anche Tornare indietro Questo è positivo Vuol dire che La trama principale La possiamo spezzettare Volendo Ma noi Andiamo Ai colli Di Ora Bell È un po' che non guardo L'Instant Lore Perché mi dimentico Qualche tempo dopo Qualche tempo dopo Qualche ora dopo Il Sacro Impero Di Xanbrek Ok ma c'eravamo Anche prima Nel Sacro Impero Pensavo fosse Anche più lontano Cos'è quella cosa Su cui hanno costruito Il villaggio Le rovine Dici Non so che qualcuno La chiama Aeronave Anche se dubito Che possa ancora Volare Che peccato Erano davvero D'aeronave In quel villaggio Finora Il mio scout Non mi ha mai deluso Quindi vediamo Di sbrigarci Forza Io non so Chi è il suo scout Può essere Sua figlia Mi piace da matti Sta cosa Ok Un teleport Gli obelischi Trovando gli obelischi Ci teleportiamo Come i cristalli Del 14 Nulla di più Nulla di meno Più forte Delle parole Se io lo tocco Cosa succede Non è la prima volta Che ne vedo uno Potrei usarli Come indicazioni In realtà È la prima volta Che ne vediamo uno Vabbè In realtà Ok aspetta Premendo si aprirà La mappa dettagliata Della zona attuale Oh Macro area Noi dobbiamo andare lì Raggiungi alla perduta Colli Covoni Di qualcosa Che non riesco a capire Che cosa c'è scritto Perché è troppo piccolo Non ce la posso fare Campi coltivati Direi Molto bello Esteticamente bellissimo Sto posto Guardate Si vedono in lontananza Quelle rovine Ce n'è ovunque Ce n'è molte di più Di quello che io pensavo Un fantastico fiume Pieno di Lucciole Le lucciole Non mi ricordo quant'è Che non ne vedo più una Nel mondo vero Intendo Mi pare l'anno scorso Ad averne vista una Tipo Però C'erano delle volte Che eravamo invasi Durava una o due notti Ma era incredibile Vigneti direi Li conosco i vigneti Già 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 Uva Nera Esploro Allora C'è un combattimento Con un segugio Per un certo momento Ha corso Io non mi ricordo più Come si fa a correre Forse tenendo premuto O forse perché Stava per iniziare il combattimento Non saprei Acqua No Non ci posso saltare dentro Vedete Adesso ho iniziato a correre Così Posso Passare attraverso i filari Come se niente fosse Casa Chiaramente Mi guardo intorno Per vedere se ci fosse qualcosa Da pigliare Lupi Lì Bello Vai Bello Spettacolo Quando Torgal Gira su se stesso Facendo danni In qualche modo Che non comprendo Però fa figo Allora Lo volevo vedere su di qua Perché Che è la tipica zona Dove se vuoi nascondere qualcosa Ci metti qualcosa E invece non c'è nulla Vi faccio vedere C'era quest'area Un po' isolata Pensavo ci fosse qualcosa Una cassa No Forse Allora c'è da dire una cosa Che ci sono le quei secondarie Può anche essere Ma magari no eh Che ci siano Delle quei secondarie Che mi fanno tornare Nei vari posti E magari danno un senso A queste piccole aree Dall'altro lato Qui c'è Un Uno di Valoed Sì perché è reale Abbiamo fatto un sacco male Sì sì muoiono molto in fretta Le musiche non sono male Anche quelle del combattimento Pompa Pompa il giusto Ma perché Cosa potranno volere Cosa vogliono Quelli di Valoed Sto dando un'occhiata Anche di qua Ormai Abbastanza sicuro Di non trovare nulla Là c'è qualcosa di verde Ma direi che è un Mi era sembrato Di vedere qualcosa per terra Ma Tipo una talpa Velocissima C'è un Segugio World E lì c'è un oggetto Dai abbiamo dato un senso a tutto C'è l'oggetto Hai perso Quando gli tiro il colpo d'ala Gli faccio un male eccessivo Aumento di livello 14 Non sono affilata Banalissima Va buono Andiamo Probabilmente semplicemente Tenendo schiacciato Tenendo Il direzionale L'analogico Sinistro In una certa posizione In un certo momento Inizia a correre Se trova un ostacolo Lo supera Qui non c'è nulla Ecco Lost wing Temo Temo che Possano essere venuti qui A cercare I I marchiati Alla perduta Siamo ancora nel sacro imperio di Sunbreak E questo lo sapevo già Lo sapevo già L'avevo intuito Guardando la mappa Avevo fatto un video Sull'impero di Sunbreak Dove Provavo a indovinare Le location C'è troppa calma C'è troppa calma Che cosa facciamo Cerchiamo il mio scout Tu inizia qui Io faccio il giro l'arco Se lo trovo come ti avverto Bella domanda Gridando Sì Gridiamo La composizione del gruppo è cambiata Esplora Alla perduta Allora Il nostro amico Se ne è andato da qualche altra parte Perché Abbiamo quella barra rossa là sopra Mi infastidisce Non vedo veramente nessuno Un obelisco Però è bello Bracceri ovunque Legname Il fiume Mulino Mappa locale Porta del tagliatore Impiccato Qui c'è qualcosa Ah c'è Sid È qui che pensavo Penso ancora Che ci sia L'approdo Vero e proprio Però dovremmo essere sulla costa Per avere la prova Uh sento piangere Non vedo nessuno però Di qua Dove sto andando? Verso la porta del tagliatore No neanche Verso questa zona Fino a se stessa Diamo un'occhiata È grosso sto posto E qua È finito Torniamo indietro Strutture enormi Posso vedere il cielo? Poco Di qua c'è un altro Allora guardando la mappa Fammi vedere Ah Siamo sotto la strada Ci sarebbe una strada di sopra Si prende di qua Ecco Grigor È quella Divinità là Ma era giusto Andar di qua Tutto nero? È un ferito Quest'uomo morirà Se non lo portiamo Da un guaritore Adesso basta Avvaiare Cagnaccio Ce ne avete messo Indietro Potevamo anche spingere In tre Clive Perché sta bene? Non sareste venuti Sei ancora vivo Gav Più o meno Ho fatto quello che ho potuto Per gli abitanti Ma Pensavo stessi scherzando È a posto Ecco me Sono tutti? No Ce n'erano altri Due realisti Hanno portato via i portatori Prima che arrivaste voi C'era un dominante Le alberi Può darsi Non ce l'aveva mica scritto In fronte Ora ti prendo a testate Come ho fatto con gli altri Guardia Indovina un po' Dove sta andando Clive Seguilo Torgal Seguilo Ma non abbiamo tipo qualcosa da sparare Tipo Le nostre Palle di fuoco Non mi ricordo più come si corre Allora mi sto avvicinando Forse perché è fermo Notizia dagli scout No mia signora Non ti aspettavo qui Tra non molto Cattoreremo la nostra preda Molto bene Gli altri invece? Al momento i portatori Si trovano a Kerr Norvent Meglio trattenerne alcuni Allora In caso il dominante Ci sfuga Ho già provveduto Non verranno viziati Ve lo assicuro Signori Un brindisi Finirete a me? È in gamba questo comandante Sa il fatto suo La nostra signora dei venti E al re! Si! Gli imperiali bevono questo schifo Beh Questo finalmente spiegherebbe il loro fiato E invece di ucciderli E tu li hai condotti dritti Cui da noi Pietà! Pietà! Una parola che Benedicta Conosce per modo di dire Abbiamo uno scontro con Benedicta qui Guardate un po' che abbiamo noi Un portatore imperiale Bene Mi stavo annoiando Vuole affrontarci lei Spettacolo Non pensavo che ci fosse un duello con lei Prima di quello Diciamo della demo Ha chiuso l'arena Forma intermedia Forma intermedia No È un minion Cirada Non Kirada Come l'ho sempre chiamata io Cirada Uno dei due minion Cirada e Suparna Presenti anche In Final Fantasy 14 Come Had Durante il fight A difficoltà hard E anche a difficoltà extreme Qua ricompaiono Perché ci siamo affezionati Stavolta no Ancora Meno male che c'è tuo Orgal Vai Cosa prepara Belle ste parate con controattacco Correlato Abbiamo già una Una Un fight con Kirada Devo imparare a chiamarla Cirada Comunque L'ho presa secca L'ho presa secca Uh cose per terra Viste tardi Dai 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 che ce la facciamo Ho usato la pozione Perché col fischio Sennò che ce la facevo Cirada Sconfitta Dammi cose Medaglione del Chierico Ti dimentico di equipaggiare la roba Si è dissolta perché è un minion di etere E in effetti Grazie Clive Ma guarda chi arriva in soccorso Recluti i tuoi uomini Tutti in questo modo Non ricordo Tue la mentele Benedict Aveva reclutato anche lei come ha reclutato noi Allora La zittita anche Ricordami Perché hai deciso di tradire il tuo regno? Ti ho fatto una domanda Lord comandante Lord comandante di Vaload Perché? Perché ne avevo abbastanza di voi e delle vostre buffonette Eppure Eccoti qui A rubare il mio marchiato Che cosa tra mi? Perché dovrei dirtelo In realtà c'è una sfida sotto Evidentemente Tra lui è Barnabas tra l'altro Abbiamo catturato il dominante Abbiamo catturato Io non so chi è sto dominante Di chi stiamo parlando? È completamente fuori Dalle mie teorie Il fatto che abbia catturato un dominante A meno che non sia Joshua Ma è assurdo Ti ha forse detto dove andava? No Allora torniamo dalla perduta Possiamo seguirle tracce Ma non possiamo E' per questo che ho inviato Gav Ha inviato Gav Ok Cioè c'è Gav Ma lo ammazzano L'abbiamo trovato in prigione Quindi vuol dire che Vabbè È tutto tornato alla normalità Allora Allora Non si trattava di portatori Cercavano un dominante Sì Esatto Pensavano che lo stessimo nascondendo Come se accogliessimo un mostro simile qui tra di noi E adesso ti Senza offesa Senza offesa ma fava Ho iniziato a radunare chiunque avesse un marchio E anche chi non ce l'aveva in realtà E così vi hanno rinchiusi Sperando che qualcuno di voi avrebbe ceduto Sarebbe andata diversamente Se aveste accettato il mio invito Ah non dirlo Dicevamo tutti la stessa cosa Ma questa è casa nostra Che non vuol dire che non aiuteremo E a questo io brindo Allora io ho sempre pensato che Lostwing fosse Un secondo rifugio di Sith Ma poco ci manca Questo bardo è più bravo del nostro Facciamo cambio Ascolta Clive La vendetta non lo riporterà indietro Per niente Tredici anni fa Dominante ha ucciso mio fratello Davanti ai miei occhi Io non ho fatto nulla Ma ora posso Posso uccidere quel figlio di puttana E dare pace All'anima di Joshua Dopodiché Sarà quel che sarà Il fatto Ti accontenti di esserne schiavo Seed sta cercando di convincerlo Ad esistere Perché lui vorrebbe salvare Tutti i dominanti Nel frattempo Impero Cardo Anna bella Eppure le chiavi di volta dell'impero Vacillano sulle spalle Di un pugno di codardi E taglia gole Cosa ci fa qua? Bahamut potrà anche guidare Cento legioni Ma non è che Il giovane principe Difende un castello di carte Pronto a crollare Alla minima brezza Dimmi una cosa Perché non resisti? In te risiede il potere Di uccidere gli dèi La Fenice stessa È morta tra le tue fiamme Eppure non combatti Non fuggi Rifiuti il tuo dono Forse sei distratto Allora Cerchiamo di capire Cosa sta succedendo C'è effettivamente L'uomo incappucciato qui Dominante Probabilmente di Ifrit Conosci la mia offerta Quindi la questione dei due Ifrit Unisciti a me E verrai trattato Con il rispetto Che meritano quelli come noi Lei la ferisce Perché cerca di farlo Manifestare Margris Ti lascerò considerare Le tue opzioni Sì Sì gentile Con loro Questa ha catturato Il dominante di Ifrit Ok Qua ci sono cose Che non avevo Neanche vagamente pensato Che potessero succedere Ehm C'è il dominante di Ifrit Fisicamente nel gioco Non è Clive Almeno non ora Ovviamente Sveglia Gav è qui Oh Gav È tutto intero? È arrivato solo un pezzo Questo pezzo Parla? Ker Norvent Una delle fortezze Periferiche dell'impero Che però A quanto pare Non basta tenere fuori I realisti I portatori catturati Sono lì dentro Ne sono sicuro Se Benedict Ha l'ordine di restare Nell'ombra Non starà viaggiando Con molti uomini Per questo Terrà i prigionieri Raggruppati Nelle vicinanze Compreso il dominante Allora ci basta Entrare in quella fortezza E scatenare Un po' di caos E che faccio io? Ottima domanda Gav Tu resti fuori dal castello E conduci i prigionieri Al sicuro Perdendomi il divertimento Non può farlo lui Clive non ha Il tuo stesso intuito Finirebbe giù Da un burrone Prima di trovarli No È che Clive serve Di più là dentro Vabbè Ok Beh Se la metti così Bravo l'hai convinto Sarà meglio Che vada In a va scoperta Per evitare brutte sorprese Bravo Gav E di non deluderlo Non lo farò D'accordo Mi vibra il pad Ai passi di Gav Non così in fretta Aspetteremo domani Ma Lui è lì dentro Se partissimo adesso Arriveremo esattamente All'alba Potremmo fare colazione Insieme alle guardie Dai Clive Si sono appena stabiliti Ci resteranno ancora Per un po' Avremo solo un'occasione Non vuoi sprecarla Vero? No Ok Nel cuore della notte È la nuova missione C'è anche qua Nuove scorte Con i progrediti della storia Sanno disponibili Nuove oggetti Ok va buono Sia da Caron Che A Blackthorn Ok Mappa locale Allora Qui c'è qualcosa Nella bottega Chiaramente Facciamo ancora Questo pezzo Destinazione Ok Quando entriamo Nella zona Fammi dare un'occhiata Spada lunga Persino più forte Sarebbe E noi abbiamo Un botto di Jill Hai altro? Hai altro? Addirittura I bracciali Sono più buoni miei Mi vendi anche Materiali Tra cui una roba Che Di cui non ne ho Neanche un esemplare Oggetti importanti Bobina Per Orchestrion 40.000 Ma siamo impazziti Continua Ma siamo impazziti Allora Rimanderò L'esplorazione Di questo luogo Ma Voglio Andare avanti Nella missione Perché Sono persuaso Che bello Che sto qua Sta facendo luce Con cristallo Sono persuaso Che possano Spuntare Delle quest Secondarie E voglio Fare Un video Solo di queste Secondarie Ma Per quel che ne so io Sono soltanto due Cioè quelle che abbiamo Lasciato indietro La notte Qui con te Lo avevo Immaginato E lui Dove l'hai trovato Chi? Lui? Se te lo dico Non mi credi Sai Quinten è Un mio vecchio In giro Che simpatizza Per la causa Simpatizza Quindi lui Sa del tuo Piccolo rifugio Non pensavo Che in così Tanti Tenessero La nostra Libertà Da quel che ne so Io Il solo pensiero Ti porta dritto In carcere Conosco molto bene I miei rischi Così come le ricompense E quale ricompensa migliore Di un proprio dominante Del fuoco Un dominante Qui Questa mi piacerebbe Davvero Vederla Quindi non l'hai visto No Ma niente passa Inosservato Ad ala perduta Prendi il tuo marchio Ad esempio La gente se ne accorgerà All'istante E non devo dirti io Come possono reagire Alle richieste Di un portatore Tu Hai il terrore Che le tue parole Possano rimanere Inascoltate Come d'altronde È sempre accaduto Dopo che ti hanno Marchiato Caso vuole Che io abbia Una soluzione Per il tuo dilemma Farò un favore A Sid Ci toglie il marchio Ti consegno questo Scoprirai Che possiede Lo strano potere Di sciogliere Tutte le lingue Hai accettato L'impiccato Da l'ultus L'impiccato È tipo Un tarocco Saremo anche In terra imperiale Ma qui Adala perduta La sua parola Detta legge Ma come è Tranquillo Non devi preoccuparti Fidati Adala perduta Tutti conoscono Quel sigillo E che cosa Significa ignorarlo Ok ci ha dato Un contro sigillo Oppure usarlo Per trovare A quel dominante Decidi tu Devo capire Sta cosa Vediamo se Questo funziona Davvero Questo funziona Davvero In che senso Raccoglio informazioni Della gente Del villaggio Allora Aspetta un attimo Cosa ci ha dato In piccato Questo sigillo Identifica Chi lo porta Come un fidato Alleato Di Quinten Di alla perduta Caso vuole Che io abbia Una soluzione Per il tuo dilemma Farò un favore A Sid Ok Diciamo La frase che ha detto Quando ce l'ha dato È un Key item Va bene A questo punto Io direi Che La mappa Tanto qua C'è una nuova zona Volendo possiamo Tornare indietro E possiamo Tornare qua A questo punto Noi Torniamo Al rifugio Ci possiamo Tornare Così Secco Vediamo se sono Spuntate delle Missioni secondarie Ma io Penso di no Ci sono delle Novità Ci sono ancora Le missioni secondarie Ci sono un altro Po' di cose La pietra A rete E Poi ovviamente Ci sono i Mille tomi Che si saranno Aggiornati È stata molto Più movimentata Questa Questa puntata Quest'episodio Mi ha divertito Di più Sorprendente Quello che sta Accadendo Anche Cercando Di immaginare La trama Con tutto Quello che ho visto Mi mancava ancora Parecchie cose Evidentemente Il dominante Incappucciato È Fisicamente Presente Io pensavo fosse Assolutamente Inventato Da Clive Probabilmente Quando morirà Noi acquisiremo Il potere Di Ifrit Lo acquisiremo Successivamente Un potere che adesso Noi non abbiamo Ci risveglieremo Dominante di Ifrit Alla morte Di quest'altro tizio Di cui dobbiamo Sapere ancora tutto Anche se ci ha detto Il nome Ma io ovviamente Sono riuscito a dimenticarmelo Mai mille tomi Ce lo potrebbero dire Di nuovo Andiamo a vedere Andiamo a vedere Potremmo avere La sorpresona qua Dimmi cosa Ippocrate Io dico Ippocrate Ma si chiama Ar 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 No 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 Non inizia a parlare Perché non ne usciamo Ah abbiamo Delle novità Da dargli Ok Livello 2 Livello 2 Livello 2 No Se hai una domanda Per me Sarò felice Di rispondere Personaggi Abbiamo Aggiornato Cose Abbiamo anche Gav No voglio personaggi Ma andare avanti Il dominante Del fuoco Attendente Di Mer Grace E il dominante Del fuoco Qua non è Stato Aggiornato Ma C'è l'attendente Di Mer Grace Che è la ragazza Che era lì Dell'uomo Che si fa chiamare Lord Mer Grace Insieme Viaggiano Attraverso i gemelli Per scopi Misteriosi Questa è la tizia Che va in giro Col tipo Incappucciato Che quindi Si chiama Mer Grace Ma qua Non l'hanno ancora scritto E tra l'altro Per la cronaca Sono all'interno Di una fortezza Imperiale Quindi Di Sunbreak Molto vicini Ad Oriflam Ma dentro Ci sono I soldati Di Valoed Guidati Da Benedicta Che ha fatto Tutto sto giro Per venire In questo continente E rapire Questo dominante Di cui lei Probabilmente vuole L'appoggio Barra i poteri Non saprei Direi che a questo punto Ci possiamo fermare Molto verosimilmente La prossima parte Sarà Quella della demo La battle demo La combat demo E Io non ho giocato Quella parte Perché non ho Giocato tutta la demo Ho giocato solo La parte iniziale Del prologo Proprio perché Sapevo che sarei Arrivato Durante l'avventura In quella fase E ci tenevo a giocarla Diciamo In blind In realtà Non è esattamente blind Perché Una parte Di quella sezione Di gameplay L'ho vista Durante Uno dei primi Se non il primo Footage Che è stato mostrato Da parte di Yoshida E compagni Quindi ci fermiamo qui Ci teniamo Tutta quella parte Per il prossimo episodio E vediamo Dove andremo a finire Non ho Bene bene idea Di quale sarà La via Che prenderà Questa trama A questo punto Quindi per ora Vi saluto E vi rimando Ai prossimi video A presto Ciao Grazie per la visione!